gentili telespettatori buona giornata draghi telefona speranza decisamente arrabbiato vediamo che cosa è successo certamente non lo sta rimproverando per aver mentito al parlamento per aver mentito ai magistrati perché lì lo ha fatto quando non c'era il governo draghi e comunque non nessuno dice nulla a questo politico di sinistra perché draghi punta al quirinale i parlamentari puntano ad arrivare a fine legislatura ci sono degli interessi opportunistici personali di partiti di persone di politici di ministri pertanto una speranza che andrebbe sostituito immediatamente da un governante non viene sostituito e così speranza riceve una telefonata da draghi non per per quelle cose che abbiamo ascoltato in questi giorni è arrabbiato di brutto dicono una telefonata furiosa secondo dagosfia il premio era masticato amarissimo per il pasticcio sulla didattica distanza che ha visto protagonista il ministro della salute quindi draghi gli ha detto immediatamente di cancellare la circolare che è definita imbarazzante diramata per spiegare il ritorno al passato e la didattica distanza per tutti gli studenti in un istituto già con un solo positivo in una classe e dopo poche ore la smentita del governo la decisione di spedire i ragazzi a casa in presenza di un solo contagio ha spiazzato draghi spiega dagospia roberto d'agostino visto che non era stato adeguatamente informato cioè speranza aveva fatto di testa sua senza avvertire nessuno al governo e senza parlare con il capo del governo perché è una decisione così una decisione abbastanza importante e così la speranza si vede chiamato da draghi il il delfino di d'alema che cosa fa già l'abbiamo conosciuto no le bugie agli italiani le bugie ai magistrati il problema che il super green pass non funziona il problema del delle asl che non funzionano per quanto riguarda il tracciamento e figliuolo mette in campo i militari ma tanto non funzionano se non funzionano le asl vuoi che funzionano i militari ovviamente che sì quindi abbiamo capito che questo signore speranza ha un atteggiamento classico del politico che cerca di difendere il suo orticello inventando e così che cosa può fare speranza quando riceve la telefonata del premier che gli dice ma che cosa ha fatto lei secondo voi che cosa può un personaggio come speranza che cosa può aver risposto sapete che cosa risposto ha detto che la colpa mica è sua mica colpa mia lei si arrabbia ma la colpa è del responsabile delle decisioni sul e la colpa è del direttore generale della prevenzione sanitaria del ministero giovanni rezza ha scaricato la colpa mister speranza complimenti beh un ministro che scarica la colpa e guardate che assurdo perché il ministro è la persona di vertice del mini di un ministero è il capo indiscusso di un settore dello stato non può dire che una direttiva firmata dal ministro dove cambia le regole a scuola e dice che con un solo contagiato tutti a casa in didattica e distanza a fare la dad possa essere colpa del direttore generale della prevenzione sanitaria del ministero no e come dire che l'azienda lancia un nuovo prodotto il proprietario dice fallimentare e il direttore generale dice ma mica è colpa mia è quello là del dello sviluppo prodotti è stato lui c'è come è stato lui e tu che cosa ci stai chi come fa quello lì se la firma sul documento è tua è stato lui ecco scaricare la colpa così è veramente diciamo molto non so che parola utilizzare lasciamola così molto puntini puntini e speranza dice ma io ho seguito le sue indicazioni ha cercato di giustificarsi con il premier ho seguito le sue indicazioni il premier lì non ci ha visto più non come la pubblicità degli anni 80 non ci ho visto più dalla fame oppure una sensazione come di assorbimento no lì il premier ha detto che cosa che cosa cos'è che mi sta dicendo sto tizio e il premier dice che crede in una disciplina gerarchica come ovvio attenzione quello che dice draghi abituato a lavorare in strutture organizzate dove c'è ci sono dei vertici a scalare delle responsabilità non una disciplina militare come dice qualcuno ma una disciplina aziendale non mi puoi non mi può dire il direttore generale di un ministero cioè il ministro dire che è colpa di un di un suo sottoposto no ho seguito le sue indicazioni ma allora che che leader sei no che leader sei con tutto quello che fai e così a quel punto gli avrebbe fatto una lavata de capo all'esponente di articolo uno articolo uno dice si è in quel punto si è arrabbiato di brutto fa notare da gospia e gli avrebbe fatto notare che a consigliare il governo nelle scelte di questo tipo c'è il comitato tecnico scientifico non il direttore della prevenzione sanitaria come dire ma tu cosa dai retta a chiunque ti dice la roba a cui tu sei subisci l'influenza di un tuo sottoposto e allora fai una direttiva del genere senza avvertire nessuno altra telefonata stavolta al coordinatore del cts franco locatelli secondo cui la circolare del ministero era eccessivamente severa non dobbiamo esagerare e a quel punto draghi ha cercato conferma dal commissario straordinario all'emergenza francesco figliuolo stesso parere di locatelli anche per figliuolo era un qualcosa di esagerato pertanto grazie per avermi detto salute visto che i miei video sono senza tagli e non sono non c'è nessuna edizione viene fuori anche lo starnuto e così quando anche draghi ha sentito locatelli locatelli fa le cose per bene del cts una pubblicità di un formaggio vero locatelli fa le cose per bene e sentito anche figliuolo a quel punto ha ribaltato la decisione di speranza di un ministro mai la decisione di un ministro era stata buttata al cesso dice un giornale in un modo così rapido e plateale e quindi draghi sta sempre più prendendo il sopravvento nel governo cioè è come quei direttori che entrano in un'azienda dice beh adesso capisco come muovermi come quaglia la brodaglia e piano piano diventano sempre più forti stessa cosa draghi più passa il tempo e più prende forza all'interno del del suo governo arrivederci a tutti e grazie